Buongiorno e benvenuti a Sette in Punto. Questa mattina parliamo della professione dell'agente di commercio che è una professione che necessariamente deve fare i conti anch'essa con il trasformarsi dei tempi e vogliamo raccontarvi la storia di un'iniziativa che è nata proprio durante il lockdown ed è una piattaforma di incontro e anche di formazione e di operatività di agenti di commercio. Do il buongiorno e benvenuto a Federico Bregolato, imprenditore, colui che da agente di commercio ha pensato di ideare una piattaforma per collaborare anche con altri colleghi per evolvere, far evolvere la professione. La prima domanda, voi sorgete a fine gennaio, quindi a ridosso del lockdown. Il lockdown però non è stata una barriera ma avete continuato a lavorare al progetto. Quindi anche quando tutto il paese era chiuso e adesso si sta riproponendo una situazione simile, siete riusciti a sviluppare un progetto. Innanzitutto volevo cogliere questo aspetto. Buongiorno a tutti e grazie. Abbiamo colto un'opportunità, il lockdown per noi è stata un'esperienza che abbiamo voluto sfruttare al meglio. Ci siamo concentrati cercando di capire come potevamo mettere a terra delle idee e da lì è nata l'idea di Agente Più. Questa piattaforma che ci sta dando grandi soddisfazioni, siamo più di 6.500 utenti presenti in piattaforma e grandi mandanti. Tanti clienti ci hanno dato fiducia e tanti clienti ci stanno dando fiducia per il 2021. È nata da un'esigenza principale, quella di rispondere al fatto che non potevamo muoverci. Quindi dovevamo dematerializzare la vendita che fino a ieri era solo fisica. Quindi dovevo andare dal mio cliente fisicamente, dovevo fargli firmare un contratto, dovevo in qualche modo interagire direttamente con lui. Per rispondere a questa esigenza abbiamo dovuto costruire della tecnologia che ci permettesse di non andare più fisicamente dal cliente, ma poter vendere il nostro prodotto, proporre il nostro prodotto anche da remoto. Questa soluzione è obbligata nel periodo di chiusura, invece che essere un impedimento è stato come si dice un giovamento. Ma questo vi permette anche di ripensare la professione, perché quando si parla degli agenti di commercio, nell'immaginario fino a qualche tempo fa si prefigurano persone con la valigetta, con la macchina, sempre in auto, a proporre il campionario della propria mercilogia. Invece oggi per acquisire nuovi clienti è sufficiente dialogare virtualmente? Non vogliono vedere il prodotto, a parte che spesso e volentieri si parla sempre più di servizi, quindi è una comunicazione di un prodotto che ha un concetto molto esteso, non è più solo il manufatto. Certo, oggi il nostro lavoro è cambiato, quindi sicuramente l'utente, il nostro potenziale cliente è già molto informato. Nel 99% dei casi già conosce molto bene il servizio che noi gli proponiamo o il prodotto che il cliente vuole comprare. Quindi è un po' diverso rispetto ad una volta. La figura dell'agente è sempre più quella consulenziale di un consulente, quello che riesce a dare valore in modo chiaro e semplice al prodotto e al servizio. La nostra professione vuole essere sempre quella più di mettere al centro il cliente con la relazione, il cliente si deve fidare di noi. Noi con Agente Pio abbiamo voluto fare proprio questo, cioè semplificare il lavoro dell'agente di commercio, cercando di fargli perdere meno tempo possibile per la burocrazia, anche per chi intermedia un servizio sa quanto tempo l'agente di commercio nel vecchio modello doveva perdere con la burocrazia. In piattaforma abbiamo voluto proprio disintermediare il problema della burocrazia, cercando di lasciare all'agente l'unico lavoro che sa fare molto bene, relazionarsi con il cliente. Quindi voi fate per l'agente, per il rappresentante, per il libro professionista, una porzione di lavoro, quindi la assolvete voi. La piattaforma non si scrive, paga ovviamente, credo, è come avere una consulenza del... No, non costa nulla. Eh, appunto. La piattaforma è completamente gratuita, noi sfruttiamo l'economia di scala, cioè più utenti siamo e più valore riusciremo a sviluppare nel corso del tempo. Mi spiego meglio. Sì, puoi spiegare come funziona la piattaforma e qual è l'opportunità per un agente di commercio di aderire a questa piattaforma, poi invece andremo ad analizzare l'impatto sul mercato e sui clienti. Certo. Allora, l'opportunità importante per l'agente di commercio è chiarissima e immediata. Io, Federico Bregolato, da solo non posso andarmi a relazionare, facciamo un esempio con Fastweb SPA. Non facciamo nomi. Ok. Non posso andarmi a relazionare direttamente con una mandante che chiaramente ha degli standard di qualità, non solo di patrimonializzazione, quindi deve avere una società per azioni, deve essere organizzato, deve avere un tot di bilancio, eccetera. Quindi io, semplice agente, difficilmente riesco a relazionarmi a pari livello con queste mandanti. D'altro modo, nella mia routine non riuscirò mai a produrre un contratto, un valore di contratti minimo per poter lavorare da solo con questa mandante. Che cosa significa? Vuole spiegare che cosa intende per mandante? Certo. Perché non siamo tutti, quindi magari cerchiamo di far capire anche al pubblico a casa perché il mandante evoca ansie più violente. La mandante per noi è il nostro committente, il nostro cliente, cioè i prodotti che noi veicoliamo sono di un'azienda, un'azienda che ci affida il proprio portfolio prodotti e ci permette di veicolare al mercato i loro prodotti. Un agente singolo quindi non ha la possibilità di fare tantissimi contratti da solo, ma nella sua forza singola potrà fare una buona produzione, una buona produzione di qualità. Bene. L'economia di scala della piattaforma è proprio questa. Avendo già 6.500 utenti, una buona parte di loro hanno deciso di vendere quei prodotti presenti in piattaforma. Che cosa significa? Che noi ci presentiamo a questo nostro cliente, a questa nostra mandante con una forza di propagazione prodotto già di 6.500 utenti. Questi 6.500 utenti, perdoni se magari chiedo delle specifiche, sono tutti rappresentanti di uno stesso prodotto oppure proprio perché sono rappresentanti di 6.500 prodotti diversi possono presentarsi al mandante, all'ipotetico cliente con una rosa di offerte molto ampia? No, sono tutti utenti diversi tra loro. Abbiamo tantissimi agenti che arrivano dall'alimentare, tantissimi agenti che arrivano dalle telecomunicazioni, tanti agenti che arrivano dal mercato luce gas e hanno un loro portfolio cliente. La cosa che ci piace vedere è che proprio ci sono degli agenti che continuano a lavorare con i loro clienti, con le loro mandanti, continuando a vendere i prodotti che vendono magari da 20 anni e abbinano i prodotti presenti in piattaforma, dando un ulteriore valore ai propri clienti. Quindi se io sono abituato a vendere cappelli, ho un mio target, abbiamo un agente che vende cappelli da 20 anni, ha i suoi 30 clienti fedelissimi e vedi un agente più come un grande service, la possibilità di vendere prodotti e servizi in modo semplice, immediato e veloce ai suoi clienti, quindi dando valore alla relazione che ha costruito con i suoi clienti. Quali sono i prodotti e i servizi della piattaforma a questo punto? Allora, l'obiettivo che abbiamo da 2021 a 2024, questa è la roadmap che ci siamo dati, saranno presenti 12 mandanti, mandanti che ci permetteranno, 12 clienti, quindi che ci permetteranno di soddisfare tutte le esigenze del mercato casa domestico, quindi caldaie e condizionatori, servizi di luce gas, servizi di telefonia, servizi di allarme, assicurativo, noleggio a lungo termine, tutti i servizi che chiaramente un agente potrà veicolare al proprio cliente consumer, quindi residenziale domestico, ma anche al cliente business, in questo caso attività. Quindi tutte quelle necessità, chiamiamole, che abbiamo di servizio più che prodotto manufatto. Quindi voi avete proprio, mettete al servizio del prodotto manufatto che ciascuno rappresenta proprio nel suo cliente originario, tutta la vasta gamma di servizi che sono interconnessi all'attività del commercio? Assolutamente, uno dei nostri focus è selezionare delle mandanti di caratura, insomma che permettono alla gente di fare sempre un'ottima figura con il proprio cliente finale, ma soprattutto quello di dare un servizio di grande qualità. La selezione delle mandanti è uno dei nostri focus più importanti, vogliamo clienti mandanti con le spalle larghe e di primaria posizione chiaramente nel mercato. Questo in qualche modo, questa idea nasce allora evidentemente da una verifica delle richieste del mercato che insieme all'oggetto va venduto il servizio interconnesso all'oggetto, non si può prescindere. Assolutamente sì, sempre di più c'è una joint venture tra chi produce l'hardware e chi può vendere un servizio su quell'hardware. Faccio un esempio molto banale, una big company che produce i monopattini e oggi abbina l'assicurazione su quel monopattino, quindi dando anche un valore aggiunto al proprio cliente, ma a volte anche facendo upselling di prodotto, perché oltre all'hardware vende anche la polizza assicurativa. La rete quanto permette di risparmiare sia chi vende sia chi compra, in termini di tempo ma anche in termini di denaro e quanto diventa un'opzione in questo momento di grande rivoluzione, di grande crisi, in cui tutti i modelli sembrano saltare, quanto intercetta appunto anche l'incertezza, perché se tu offri un pacchetto chiave in mano, chiamiamolo così, ma è anche determinato nei costi e nelle durate, uno si avventura anche a fare degli investimenti che magari con il modello tradizionale uno rimane un po' più sulla ventino. Sì, assolutamente. Rete intende... Rete di persone, no? Rete di servizi che voi proponete. Allora, sicuramente insieme si vince. Essere l'agente di commercio singolo non è mai un vantaggio. Ci si sente soli, spesso molto abbandonati dalle mandanti e quando c'è un problema grande come quello del lockdown e speriamo di non doverci rifare i conti, non è un'avventura semplice. Tenevo presente che la nostra categoria guadagna solo se vende. Certo. Quindi trovarsi le aziende chiuse, la possibilità di non interagire con i clienti e l'unico modo con il quale io posso monetizzare è vedere fisicamente i miei clienti un grande limite. Per noi oggi questa è una grande opportunità, non ci spaventa dover riaffrontare un lockdown perché finalmente abbiamo disintermediato la presenza fisica. Possiamo trattare, proporre in videochiamate al nostro cliente il prodotto, possiamo spedirglielo affinché lui lo possa vedere se parliamo di hardware e possiamo finalizzare le nostre vendite e transare le nostre vendite tranquillamente remotizzando da casa tutto ciò e questo ci dà un grande vantaggio. Possiamo mantenere intatta la nostra fonte di ricavo fondamentalmente. Non trovo che sia un po' la scoperta dell'acqua calda questa che l'uso del virtuale, del digitale esiste già da qualche anno. Ha subito un'accelerata incredibile con gli obblighi imposti dal lockdown. Ripeto, serviva un lockdown, serviva una pandemia per scoprire delle potenzialità o probabilmente c'è un retaggio comunque di tradizione europea, italiana, del contatto diretto, magari anche di superare la diffidenza di non sapere chi c'è in rete e magari la rete si è in qualche modo certificata, è più affidabile, non lo so. Tutto questo, questa rivoluzione come nasce, come si evolve? Allora, il lockdown indiscutibilmente ha imposto anche l'utente finale alla zia Maria di utilizzare strumenti che fino a ieri magari nemmeno immaginava potessero esistere. Quindi abbiamo una maggiore consapevolezza del digital, questo sicuramente. Quindi inutile dire quanto il lockdown sia stato un propulsore. Per un momento immaginiamo invece la parte business, per noi è stata e sarà una scoperta trovare delle persone che oggi sono disposte a dedicarci un'ora in videochiamata. Per dire la vostra idea, in embrione a gennaio il lockdown ha dato una bella spinta in avanti, è caduta al momento preciso. Probabilmente ci ha dato una mano a capire quanto il digital ci possa servire e ce ne siamo resi conto soprattutto sulle tasche degli agenti. Un agente di commercio mediamente spende dai 1000-1200 euro mese di gasolio, telepass e di costi in essi e con essi al fatto che si muove, fa quel percorso che lo distanzia tra casa e l'utente finale. Oggi quei costi non ci sono più, sono stati completamente abbattuti e io sono il primo a dire che il lockdown ci ha imposto di trovare una soluzione. Quindi non abbiamo scoperto l'acqua calda, ma abbiamo trovato il modo probabilmente per far capire a tutti, anche al cliente finale, che c'è un'opportunità di risparmiare tempo e denaro. Questo risparmio viene concepito, non siamo ancora fuori, anzi stiamo per riproporci in una situazione analoga. Questo secondo lei aumenterà la diffidenza dei clienti perché uno di fronte a una chiusura magari schiude proprio gli acquisti a prescindere dal veicolo, se dalla persona fisica o dal contatto in rete. Tutti magari possono, così come al primo cenno di ripartenza, si ritrova la fiducia e magari si rimette in moto, non so, c'era quello vecchio slogan, si rimette in moto l'economia. Sto cercando di capire in questo momento specifico dove c'è stata una ripresa, poi di nuovo un'improvvisa chiusura. Adesso si paventa un nuovo lockdown, seppur differenziato, seppur light, la vostra professione, che sentore avete di chi vuole? C'è voglia di acquistare o, ripeto, si è tutti un po' cristallizzati? Chiarissimo. Dobbiamo fare una distinzione. In piattaforma oggi abbiamo clienti, mandanti che permettono al cliente finale di risparmiare dei denari. Nel caso in cui vendiamo il prodotto, quindi caldaio e condizionatore, rispondo sì, c'è molta più consapevolezza, cioè l'utente oggi tende a ragionare un po' di più, ma se l'offerta è buona decide. Leggevo proprio l'altro giorno un articolo del Sole che sosteneva quanto oggi il risparmio sia un problema, perché gli italiani risparmiano troppo. Noi vediamo che gli utenti sono molto più consapevoli rispetto magari a una volta, dove si spendeva con un po' più di leggerezza. Oggi invece a ragion veduta c'è chi spende con questo sicuramente. Ci sono degli utenti però che magari non fa la differenza acquistare una caldaia di 2.000 euro oggi, ma potrebbe fare la differenza magari averla acquistata un anno prima. Quindi oggi lo fanno con più attenzione, valutando magari i costi e accessori in modo più dettagliato, però lo fanno comunque. Questo è quello che vediamo. Lei ha citato il caso della caldaia, io colgo la palla al balzo perché la caldaia fa parte di quegli interventi che possono usufruire del 110% al bonus. Quanto queste iniziative, prima lei ha citato i monopattini, per cui mi sembra che nella nostra piattaforma ci siano quei prodotti che sono stati oggetto anche di defiscalizzazioni o di bonus. Quanto questi interventi che possono sembrare a spot finalizzati a degli oggetti che non riguardano tutti, non però sono di stimolo anche per la vostra piattaforma. Cito le caldaie piuttosto che i monopattini perché credo che le caldaie col 110% e il monopattino, c'è stata un'invasione, probabilmente sono incentivi, sono una reazione a un momento di chiusura e di depressione, perché voi avete comunque un osservatorio privilegiato, perché la gente di commercio è da sempre stato anche un po' psicologo, perché se vuoi piazzare il prodotto devi essere anche un po' funabolico. Certo, allora indiscutibilmente oggi abbiamo dei prodotti che si possono vendere meglio rispetto a un po' di tempo fa, la caldaia è uno di questi, il condizionatore è uno di questi e oggi è una grande opportunità che tantissimi clienti vogliono cogliere, il nostro lavoro è proprio quello di far capire a questo utente se è il momento giusto o non è il momento giusto. Per noi è una grande opportunità in termini di ricavi, la nostra azienda chiaramente si basa, del resto essendo agenti di commercio, sulle vendite che noi facciamo, quindi per noi un cliente è un'opportunità di vendita, ma è ancora prima una relazione profonda che vogliamo mantenere negli anni, quindi abbiamo un ruolo fondamentale, capire quando è il momento giusto per il nostro cliente e proporre l'offerta giusta al nostro cliente. Se analizziamo l'evoluzione della vostra professione negli anni 80, negli anni del boom in cui c'erano molti acquisti del consumismo sfrenato, credo che la gente fosse tra le categorie, chiamiamole così, privilegiate perché entrava e vendeva senza doverne anche, l'importante era avere la targhetta del prodotto. Poi ci sono stati anni, gli anni 90 verso gli anni 2000, in cui la gente di commercio era l'unico lavoro che si trovava nel momento di disoccupazione, quindi uno quando doveva cercare di mettersi nel mondo del lavoro, provava, perché lei prima l'ha sottolineato, si guadagna se si vende, perché poi per carità ci sono stati anche fortunati che avevano la base, eccetera, eccetera. Questa professione è stata esaltata e demonizzata, perché vendere bisogna esserci anche tagliati, un conto è avere il negozio, un conto è avere il banchetto al mercato, ma andare anche a convincere le persone della bontà di un prodotto, quando il prodotto ancora magari non è noto, non è facilissimo. Lei prima mi faceva accendere alla sua esperienza personale, lei mi diceva che non è che volessi fare la gente di commercio, però mi sono trovata a farlo un po' perché mi è passo di capire, era una delle possibilità in un momento difficile e cerco però di cambiare questo lavoro, di dare quasi una professionalizzazione a questo lavoro. Assolutamente, forse la vera chiave di volta in questo momento così speciale, diciamo, per l'economia e per il nostro ruolo è proprio quello di dare valore, cioè ci dobbiamo professionalizzare, dobbiamo diventare dei veri e propri consulenti. Una volta, come lei diceva giustamente, chiunque poteva fare la nostra attività intermediando un prodotto e servizio che magari si vendeva anche da solo, guadagnando una provvigione in modo molto semplice e a volte anche un po' facendo chilometri. Esatto. Oggi non è più così, cioè si rischia di non guadagnare. Oggi per vendere un prodotto devi essere molto professionale. Il cliente che compra, se è un cliente business o se è un cliente domestico, sa molto bene che cosa tu gli stai proponendo e l'unica cosa che convince quel cliente è la tua capacità di comunicare la tua professionalità. Quindi il cliente compra da me se si fida di me, prima cosa, e seconda cosa se, qualora io avessi un problema con quel prodotto che tu mi stai vendendo, posso contare su di te, sulla tua capacità di risolvermi il problema. Quindi diventa il front office, diventa colui che mi risponde a tutte le mie necessità inerenti al servizio piuttosto che… Magari non è proprio un front office, ma è l'uomo di cui mi fido, ciecamente. Se non ha lui la risposta me la trova. Mi piace tantissimo sentire i nostri colleghi agenti che di fronte ad una difficoltà chiamano, chiamano in piattaforma e cercano di risolvere il problema con noi. Non abbiamo la risposta a tutti i problemi che ci si possono presentare di fronte alla vendita di un prodotto, ma abbiamo la consapevolezza di avere la voglia, gli strumenti e l'umiltà di risolvere quel problema al nostro cliente. Ed è da lì che forse la nostra immagine, la nostra professione può trovare una nuova svolta. Quindi voi ascoltate il cliente? Noi abbiamo bisogno di ascoltare il cliente. Il nostro lavoro si basa sulla fiducia dei nostri clienti. Acquisire un nuovo cliente è molto difficile, perché devi convincere che tu sei la persona giusta che fa per lui, che il tuo prodotto è il migliore rispetto agli altri. Il vero valore è strutturare un rapporto a medio e lungo termine con il nostro cliente. È molto più semplice che l'utente e il cliente che ha comprato da te un prodotto e si trova bene con te, ne compri un altro. Quindi noi dobbiamo lavorare con la fiducia del cliente ed è fondamentale che, qualora ci fosse un problema, il primo ad essere contattato sia la gente. Proprio perché significa che quel rapporto di fiducia, quel legame di fiducia c'è ed è quello sul quale noi dobbiamo costruire valore. Quanto è determinante, visto che il cliente è consapevole, credere nel prodotto, nel servizio che si propone. Un tempo non è sempre così, insomma, uno spesso trova la possibilità di andare a proporre qualcosa, magari nelle sue corde, ma torniamo a professione che in qualche modo dava una prospettiva in momenti in cui non ti assumevano da nessuna parte. Quanto invece è importante che uno diventi portavoce di un prodotto, che non racconti bugie, che non racconti la faula dell'orso. Fa tantissimo la differenza. I commerciali, con tutto il rispetto, necessariamente anche, però non è più quel tempo, mi par di capire. Sì, poi si rischia sempre di fare un po' di tutta l'erba un fascio, no? Certo. Il commerciale vero, quello di cui io ne vado fiero, è il commerciale che sa trasferire valore al proprio utente, è il commerciale che sa spiegare bene il prodotto proprio utente e qualora sia di fronte un cliente che di quel prodotto non ha bisogno, non glielo venda. Perché noi abbiamo bisogno che il cliente si fidi di noi. Quando io rifilo un prodotto che il cliente non ha bisogno, ho portato a casa un ricavo ma ho perso un cliente. Quel cliente tra un anno, tra due anni, magari quel prodotto l'avrebbe comprato da me. Invece ho rotto un patto di fiducia e di conseguenza ho perso la fiducia del mio cliente, quindi non ha nessun senso. Per noi è fondamentale che la gente viva, si immerga completamente nel prodotto. Deve conoscere, stimare l'azienda per cui sta lavorando, l'azienda che sta proponendo al suo miglior cliente. Quindi c'è un percorso di formazione, noi lo chiamiamo percorso di onboarding interno alla piattaforma, che permette alla gente di conoscere tutto del cliente che andrà a proporre, della mandante che andrà a proporre. Proprio perché vogliamo che siano agenti consapevoli di cosa stanno facendo e di che prodotto stanno promuovendo, chiaramente. Lei parlava di mercato business e mercato domestico. Io torno al particolare momento che stiamo vivendo. I consumi sicuramente si sono interrotti, sono ridotti al minimo indispensabile, si investe soprattutto in beni di prima necessità. Come voi state cercando di affrontare anche questa contrazione dei consumi? Perché lei mi parla con ottimismo, no? Evidentemente quindi avete lavoro e la piattaforma ve lo dimostra. Volevo un po' capire come in un momento di contrazione dei consumi si inserisce questo vostro progetto. Come le dicevo poco, anzi tutto parte dalla qualità cliente che abbiamo in piattaforma. I nostri clienti, i nostri mandanti sono disposti ad comprare comunque anche se il momento è difficile. Assolutamente sì. Ci sono categorie cliente che in questo momento hanno bloccato tutti i rubinetti, come giusto che sia, perché magari si trovano in difficoltà economica e quindi sono obbligate a razionalizzare le loro spese. Ma ci sono anche degli utenti, dei clienti che non hanno problemi in casa integrazione o comunque hanno un buon bacino e decidono di fare un loro investimento sulla casa, il bene più importante che hanno. Cercando di efficientare i loro consumi cambiando caldaio e condizionatore o cercando di ristabilire o ricontrattualizzare il contratto con il suo fornitore di gas e luce o rivedendo le condizioni economiche del suo contratto di fibra ottica. Insomma è un momento particolare dove l'utente guarda con più attenzione quello che spende. Però continua a spendere. Continua a spendere. Non significa che blocca completamente tutto ciò che per lui è un investimento. E voi come vi comportate all'interno della piattaforma? Seguite l'andamento dei consumi, l'andamento anche dei prodotti e dei servizi che vengono richiesti e siete in grado poi di orientarvi in un senso piuttosto che in un altro? Qual è la differenza determinata nella vostra professione con questa piattaforma? La differenza sostanziale è che qui l'agente può vendere un prodotto in modo semplice, veloce e immediato, indipendentemente da qual è la sua storia agente. Io sono un agente che fino a ieri vendevo viti, faccio un esempio, oggi le aziende che vendono, che comprano viti sono bloccate. Io comunque sono un agente che deve fatturare, quindi vado in piattaforma, mi scrivo, in 9 minuti esatti sono pronto a vendere il mio primo prodotto, decido con che mandante lavorare e dopo 10 minuti sono operativo con un'altra mandante. Quindi posso iniziare a vendere caldaie e condizionatori a chi? A sempre i miei clienti. I miei clienti che fino a ieri compravano da me viti, oggi non possono più comprare viti perché l'azienda è bloccata, ma magari si comprano la caldaia di casa. Questa è la gente, la personalità della gente, la competenza della gente, la fidelizzazione, non è più il prodotto ma è la persona. È la relazione che ha la gente con i suoi clienti che fa la differenza. Quindi la fiducia che si stabilisce con un intermediario di fornitura che poi mi convince anche a fare degli acquisti che magari non avevo anche, risponde a dei bisogni che sorgono improvvisi. Voi in qualche modo anticipate anche i bisogni dei vostri clienti? Assolutamente. Il nostro agente conosce, come dicevamo molto bene prima, i suoi clienti perché ha una relazione magari decennale con quei clienti. È abituato a vendere o vederlo ogni mese perché vendeva viti da 10 anni a quel cliente. Quindi lo conosce visceralmente. Avete anche un compito, poi chiudo, psicologico nel momento appunto come questo che è di incertezza, di problematiche, anche di sostenere gli imprenditori? C'è una bellissima storia di un agente all'interno della piattaforma che si è trovato in un momento serio di difficoltà dove rischiava di fare delle scelte sbagliate e i ragazzi di supporto l'hanno preso come case history e dopo due ore di telefonata è uscito da quella telefonata consapevole del valore che lui ha nel mercato. Non necessariamente perché in questo momento la tua azienda non è più disposta a pagarti per vendere un prodotto, tu non vali. Assolutamente no. Oggi noi abbiamo un grande valore, l'agente di commercio ha un grande valore che è la relazione con i suoi clienti. La piattaforma Agente Plus ti permette di dare quel valore in modo più semplice e immediato ai tuoi clienti. È un'impresa di agenti anziché essere agenti singoli quindi. È un'aggregazione di intenti organizzata cercando di semplificare il lavoro dell'agente di commercio. Io ringrazio Federico Bregolato per questa testimonianza quindi in un momento anche di crisi le professioni mi parli di capire si possono reinventare. Assolutamente. Grazie a voi per essere rimasti con noi anche questa mattina, torniamo domani con un salto in punto. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.